Ok, allora, good evening, I am Salvina Panebianco, the title of this dissertation is the assessing quality and traceability of PGI tomato fruits by advanced physical and microbiological techniques. I apologize, I will continue my dissertation in Italian, but the slides are right in English. La qualità di un alimento può essere considerato un sistema complesso in quanto è determinata da differenti fattori che coesissono tra di loro, modificando continuamente lo stato di equilibrio e la struttura del prodotto. Questo stato di stabilità legato alla coesistenza di differenti fattori è tipico dei sistemi complessi. Nel dettaglio, diciamo, la qualità di un prodotto vegetale è determinata dalla composizione chimica, ecco, del prodotto che fa riferimento alla sua composizione nutrizionale, dalla qualità microbiologica, da cui dipende la sicurezza alimentare, e dai fattori ambientali, nei quali rientrano le pratiche agronomiche, le condizioni climatiche, che in qualche modo influenzano i primi due aspetti. Avendo fatto questa premessa, quindi, l'obiettivo, diciamo, della ricerca, dell'attività di ricerca, è stato quello di definire il sistema complesso rappresentato dal pomodoro IGP di Pachino, identificando le caratteristiche correlate alla composizione chimica e microbiologica del prodotto. Abbiamo inoltre analizzato le relazioni esistenti tra questi parametri e l'area di produzione. Nello specifico, la qualità è stata dapprima analizzata dal punto di vista chimico-fisico, utilizzando due tecniche fisiche non distruttive. Nel dettaglio abbiamo utilizzato la spettroscopia, quindi la fluorescenza raggi X, per determinare la presenza degli elementi caratterizzanti in tracce, inclusi metalli pesanti, legati all'origine geografica del prodotto e alla genuità di questo importante prodotto di nicchia. Mentre abbiamo poi utilizzato la luminescenza ritardata per mettere in luce, per rilevare eventuali cambiamenti strutturali legate alle condizioni di crescita differenti delle piante. Successivamente abbiamo effettuato delle analisi microbiologiche per approfondire le conoscenze riguardanti le popolazioni microbiche presenti sulla superficie e nei tessuti interni dei frutti, identificando nello specifico la microflora nativa dotata di attività antimicrobiche. Le relazioni tra questi parametri di qualità e il territorio d'origine sono state messe in luce dall'analisi statistica, da tecniche di analisi non supervisionate, come ad esempio l'APCA e la cluster analysis, e tecniche di analisi statistiche supervisionate, come appunto l'analisi della varianza. L'APCA è una tecnica molto utilizzata nello studio dei sistemi complessi, in quanto riduce la dimensionità dei dati, facendo emergere delle differenze o le similitudini che esistono in un set di date che è piuttosto complesso. Sebbene Ragusa sia la provincia che ha la maggiore superficie destinata alla coltivazione del pomodoro da mensa, la nostra attività di ricerca si è focalizzata sul pomodoro di Pachino, proprio per l'importanza che ha questo prodotto per l'economia siciliana. Il prodotto, secondo il disciplinario di produzione, deve essere esclusivamente coltivato in questa zona che ho scontassegnato con questo cerchio, quindi che ricade nei comuni di Pachino e di Portopalo di Capopassero e in parti di territori di Ispi che è noto. Entrando più nel dettaglio, analizziamo uno a uno le tecniche che ho utilizzato nell'attività di ricerca. Quindi abbiamo, come dicevo prima, utilizzato per prima la tecnica XRF, che è una tecnica che consente di identificare e quantificare gli elementi chimici presenti in un campione misurando la radiazione, la fluorescenza X che è emessa dal campione dopo che è stato opportunamente irradiato con raggi X. Il fenomeno è legato all'effetto fotoelettrico. L'applicazione, la tecnica è applicata in diversi settori, anche nel settore agroalimentale. In questo caso la tecnica è stata applicata per monitorare il contenuto di metalli pesanti in piante e in campioni di origine animale coltivati o comunque provenienti da ambienti contaminati. È stata utilizzata per valutare la distribuzione degli elementi in diverse parti delle piante al variare delle condizioni agronomiche e delle pratiche agricole ed è stata anche utilizzata per autenticare i prodotti ricercando quegli elementi che identificano il territorio di origine. Verificare la provenienza di un prodotto è molto importante nel settore alimentare perché assicura la sicurezza e combatte il fenomeno della contraffazione alimentare e a supporto del sistema di tracciabilità. Questo diventa ancora più importante per i prodotti a marco e proprio per il loro elevato valore economico. Alcuni lavori hanno determinato la composizione elementale con gli elementi chimici presenti in tracce su piante e su frutti di pomodoro attraverso la tecnica XRF ma anche attraverso tecniche tradizionali come l'ICP massa. Questi lavori hanno riguardato più che altro lo studio della distribuzione degli elementi nella pianta. Pochi lavori invece sono stati centrati sull'autenticità, quindi avevano come obiettivo quello di identificare il prodotto. Il nostro lavoro è forse stato uno dei primi proprio focalizzati sull'identificazione. Da un lato quindi quello di rilevare la presenza degli elementi caratterizzanti in tracce, inclusi metalli pesanti, correlate all'origine geografica e alla genuità di questo importante prodotto. Mentre il secondo obiettivo è stato quello di riconoscere un profilo elementale che in qualche modo potesse essere utilizzato come impronta digitale per autenticare il prodotto. Per poter raggiungere questi obiettivi abbiamo proceduto in tre differenti step. Allora dapprima abbiamo effettuato uno studio di fattibilità durante il quale abbiamo messo a punto la tecnica XRF, abbiamo studiato il modo migliore per preparare i campioni e abbiamo verificato la riproducibilità dei risultati. Successivamente le misure XRF sono state effettuate su campioni di pomodoro provenienti nel distretto di Pachino, quindi raccolti nel distretto di Pachino, quindi pomodori con certificazioni IGP. E poi successivamente le analisi sono state effettuate anche su campioni non IGP, quindi provenienti da altre zone della Sicilia. In figura è possibile osservare lo strumento che abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato uno spettrofotometro portatile della Bruecker che ci è stato fornito gentilmente dal Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università di Catania. Nello studio di fattibilità abbiamo validato la metodologia utilizzata per la tecnica XRF verificando in modo particolare la significatività delle misure su campioni di pomodoro omogenei. Per poter far questo abbiamo utilizzato dei pomodori che appartenevano allo stesso lotto di produzione in modo da minimizzare le differenze nella composizione chimica magari legate al territorio di origine. Successivamente abbiamo studiato la distribuzione anche degli elementi caratterizzanti in tracce presenti in differenti tessuti vegetali del pomodoro IGP di Pachino. Quindi abbiamo effettuato le misure su differenti parti del frutto. Abbiamo effettuato delle misure sulla polpa, sul frutto sulla bacca intera, sulla buccia e sulla polvere di pomodoro. Abbiamo preparato i campioni, abbiamo effettuato le misure XRF. Questi dati sono stati poi analizzati statisticamente e i risultati sono stati comparati mediante le misure di ICP massa effettuate sugli stessi campioni. Nel lavoro abbiamo quindi preparato quattro tipologie di prodotto. In modo particolare abbiamo creato la polpa più buccia, campioni di polpa e di buccia e campioni di polveri di pomodoro. I primi tre campioni sono stati ottenuti da pomodori, tagliati diciamo in quattro parti e gli strati ottenuti sono stati sovrapposti uno sull'altro in maniera in numero differenti in modo da annullare le differenze legate proprio allo spessore dei tessuti differenti del pomodoro analizzati. Quindi poi abbiamo effettuato un'essiccazione di questi strati a 50 gradi per 6 ore, mentre la polvere di pomodoro è stata ottenuta da bacche intere, quindi comprese di semi, essiccate a 80 gradi per 5 ore e successivamente polverizzate. Diciamo che l'essiccazione ci ha permesso di evaporare la maggior parte del contenuto d'acqua soprattutto per la buccia e per la polvere di pomodoro e questo ha consentito in qualche modo di visualizzare meglio gli elementi chimici presenti nei frutti, nel pomodoro. I campioni sono stati conservati a temperatura ambiente fino al momento delle misure. Per ogni campione sono state effettuate tre misure, quindi abbiamo avuto tre repliche e sono stati analizzati gli spettri, ecco qui di porto in basso, proprio un esempio di spettro ottenuto e gli elementi chimici sono stati identificati proprio valutando i valori energetici caratteristici delle varie transizioni. A questo punto poi abbiamo determinato le rese elementali dalle aree sottese ai picchi e dopo aver effettuato la sottrazione del fondo mediante software PAI e MEZZIA. Come è possibile vedere nelle figure, ecco in tutti i campioni analizzati sono stati rinvenuti 35 elementi. Gli elementi, diciamo le rese elementali più elevate, ecco sono state riscontrate per gli elementi potassio e bromo seguiti da ferro, stronzio, calcio, rame e zinco. Le misure erano consistenti e ripetibili sia nell'ambito dello stesso campione che è tra i campioni che appartenevano alla stessa categoria di prodotto. Infatti come è possibile vedere nelle figure, sovrapponendo le rese elementali in corrispondenza dei vari campioni, ecco queste curve erano sovrapponibili uno sull'altro. I dati sono stati poi analizzati anche mediante PCA, quindi questa analisi multiparametrica e diciamo ecco l'APC1 assumeva valori molto alti, come è possibile vedere nel biplotto in basso a sinistra, tutte le variabili erano diciamo ad eccezione di quella gialla che era presentata dalla polvere di pomodoro, mostravano tutti la stessa direzione. Ecco i campioni si allineavano, questi vettori si allineavano perfettamente uno sull'altro con una linea che è parallela all'asse delle Y e questo conferma la consistenza dell'intero dataset. La PC2 e PC3 ha permesso invece di discriminare, di valutare, ha messo in luce delle differenze tra le diverse parti del frutto e infatti ecco è possibile notare quattro distinti gruppi. La polvere, diciamo ecco che è quella contrassegnata in giallo, si distanziava rispetto ai campioni diciamo di polpa e di polpa più buccia contrassegnati in verde e in azzurro e ai campioni praticamente di buccia in rosso. La PC ha permesso anche di mettere, ha messo in luce anche alcuni elementi caratterizzanti tipici del pomodoro e la cosa interessante è anche che abbiamo notato effettivamente una distribuzione diversa di questi elementi nelle varie parti del frutto analizzate, come è possibile vedere infatti alcuni elementi come lo stronzo, il ferro e il calcio erano più presenti nei campioni di buccia, quindi quelli cerchiati in rosso, mentre altri come il bromo e il cloro erano più presenti nella polpere di pomodoro, quindi quella contrassegnata con il cerchio giallo. I risultati sono stati anche confermati dall'analisi a cluster e l'affidabilità della tecnica è stata ulteriormente poi confermata comparando le concentrazioni degli elementi chimici rinvenuti tramite analisi XRF con il profilo elementare ottenuto sugli stessi campioni tramite i cippi massa. Questi dati in PPM erano anche simili ai dati, diciamo, alle concentrazioni pubblicate in letteratura nella banca dati proprio che riguarda la composizione chimica degli alimenti. Concludendo per lo studio di fattibilità, ecco, possiamo dire che la metodologia utilizzata per l'analisi XRF è apparsa efficiente e valida in quanto i risultati ottenuti erano, sono consistenti e ripetibili sia nell'ambito dello stesso campione che per le quattro tipologie di campione analizzato. La PCA ha messo in luce alcuni elementi, in modo particolare il cloro, il bromo o lo iodio, la cui presenza potrebbe essere associata alle caratteristiche proprio del territorio di Pachino e alle condizioni pedoclimatiche che si instaurano, che si verificano in quelle determinate zone di produzione. È apparsa anche trascurabile la presenza di metalli pesanti, come ad esempio l'arsenico, il nickel, e questo, diciamo, è un dato incoraggiante, un dato buono perché effettivamente dimossa la buona qualità del pomodoro di Pachino. I risultati, questi risultati, ci hanno spinto, ecco, incoraggianti, ci hanno spinto ad estendere l'analisi su campioni, diciamo, ecco, di pomodoro raccolti in campo. Abbiamo fatto, quindi siamo andati in campo, abbiamo raccolto dei campioni nel territorio di Pachino e dei campioni nel territorio di Ragusa e anche di Catania, proprio con l'obiettivo finale di confrontare il profilo elementale del pomodoro IGP di Pachino con profili elementali di pomodori e con non IGP, quindi provenienti da altre zone geografiche della Sicilia. Volevo premettere che effettivamente le caratteristiche del suolo di queste tre zone sono completamente diverse. I suoli cambiano per tessitura, per pH, per il contenuto di sostanza organica, per la quantità di carbonato di calcio o anche per il contenuto di elementi chimici presenti. la particolarità poi che contraddistingue anche il pomodoro di Pachino è la tecnica proprio di coltivazione, in quanto questo pomodoro è irrigato con acqua salina e questo diciamo dà delle caratteristiche proprio peculiari a questo prodotto e ci ha fatto ipotizzare effettivamente che potesse anche influire sulla sua composizione e quindi è un qualcosa diciamo in più proprio per un elemento che lo potrebbe contraddistinguere dai campioni provenienti da altre zone. Nella prima fase diciamo di questo lavoro abbiamo poi valutato le performance e l'affidabilità della tecnica nel determinare gli elementi chimici presenti nel campione al variare delle condizioni strumentali, del protocollo di analisi dati e della consistenza del campione. In un primo step abbiamo studiato le performance dell'apparato XRF utilizzando due differenti filtri quindi utilizzati proprio per filtrare il fascio di raggi X e così come è possibile osservare diciamo confrontando i biplot ottenuti dall'analisi i risultati erano consistenti in quanto i raggruppamenti che si raggiungevano erano diciamo ecosimili tra di loro. Quindi ciò significa che in pratica i risultati non variavano al variare del filtro utilizzato. Una cosa importante ecco da sottolineare è che tramite l'APC2 e PC3 è stato possibile discriminare i campioni di pomodoro sulla base della loro provenienza. Infatti i campioni praticamente clasterizzavano, noi vediamo cinque grossi raggruppamenti, questi campioni clasterizzavano sulla base dell'azienda dalla quale essi provenivano e inoltre i campioni di Ispica, quindi quelli contrassegnati in verde, occupavano una zona diversa rispetto a quella di Pachino. Questo testimonia il fatto che comunque ci sono degli elementi chimici che in qualche modo differenziano il prodotto sulla base della sua provenienza. Abbiamo anche effettuato un confronto tra le analisi, abbiamo voluto valutare anche l'influenza della metodologia usata per l'analisi XRF sui risultati. Anche in questo caso i risultati erano consistenti e non variavano con la metodologia utilizzata per l'analisi. In grafico io qua riporto praticamente un confronto tra il biplot ottenuto impiegando praticamente lo spettro con il fondo quindi senza quindi essere intervenuta nel sottrare il fondo e nel ricavare le rese elementali con il dataset invece ottenuto composto praticamente dalle rese elementali e anche in questo caso praticamente i raggruppamenti erano simili tra di loro. Questo suggerisce la possibilità di discriminare i campioni direttamente analizzando l'intero spettro in quanto lo spettro nella sua interezza quindi compreso di fondo ha delle informazioni che comunque sono importanti per discriminare i campioni bypassando quindi la procedura di sottrazione del fondo e la determinazione delle rese elementali. I risultati erano consistenti anche rispetto alla preparazione del campione quindi al tipo di campione che abbiamo analizzato. In modo particolare abbiamo confrontato i risultati analizzando per lo stesso campione sia pezzetti di polpa che di polpa più buccia e anche in questo caso le classerizzazioni raggiunte sono state le stesse. C'è da dire che comunque i campioni di polpa più buccia apparivano discriminare meglio rispetto ai campioni di sola polpa cioè quindi quella senza buccia e questo perché noi ipotizziamo cioè questo ce l'ha confermato anche l'analisi che nella buccia ci sono degli elementi in traccia e in modo particolare il calcio lo stronzio questo lo possiamo vedere nella nel biplot a destra che caratterizzano la composizione del pomodoro e questi elementi erano meno presenti invece e nelle nei campioni di di sola polpa. Infine ecco come ultimo step abbiamo confrontato i profili elementali dei campioni appunto di Pachino con i profili elementali di campioni provenienti da altre zone della Sicilia come dicevo prima abbiamo effettuato dei campionamenti nel territorio di Ragusa da Cate Vittoria a Scigli e a Catania e abbiamo come possibile vedere dal biplot abbiamo ottenuto un risultato veramente molto molto forte molto bello perché i campioni praticamente provenienti dal da Pachino che sono contrassegnati dal colore verde occupavano occupano una posizione diversa rispetto a quelli i contrassegnati in 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 blu che sono i campioni di non non i GP quindi raccolti a Ragusa e i campioni rossi che invece sono quelli di Catania quindi in pratica sono sono l'analisi PCA ha messo in evidenza tre grossi cluster diversi l'uno dall'altro e questo dimostra che effettivamente la composizione chimica di questi di questi campioni è differente e i campioni non differiscono per il tipo di elementi chimici perché in realtà gli elementi chimici sono sempre gli stessi ma il cambia quello che cambia è il rapporto di questi elementi cioè la presenza di questi elementi nei vari campioni abbiamo osservato che nei campioni ad esempio raccolti a Catania il contenuto di rubidio di selenio era superiore rispetto a quello ai campioni raccolti nel sud della Sicilia e per la magari presenza perché appunto il rubidio è un elemento che ha delle origini correlate diciamo ai terreni vulcanici e l'attività dell'Etna mentre nei territori diciamo nella zona di Pachino era più presente il contenuto di calcio di zinco di stronzo la il bromo invece era più presente nei campioni raccolti ad acate a vittoria forse per la vicinanza anche di questi ambienti al mare perché leggevamo in letteratura che effettivamente il il bromo cioè il mare è una fonte naturale di di bromo di iodio e quindi questo potrebbe spiegare la presenza del bromo in questi in questi campioni concludendo diciamo il lavoro effettuato con l'analisi XRF possiamo abbiamo diciamo concluso che la tecnica è apparsa veramente affidabile perché ecco i risultati erano riproducibili indipendentemente dalle condizioni strumentali del tipo di campione analizzato la tecnica XRF associata a strumenti di analisi statistica ha permesso di autenticare i pomodori i GP di Pachino discriminandoli da altri da quindi da campioni diciamo di pomodoro non i GP e questo ha un impatto diciamo ecco notevole sulla sull'applicazione sull'applicabilità di questa tecnica in quanto diciamo come è possibile essendo una tecnica non distruttiva facilmente ecco da dei può essere utilizzata proprio ai fini della tracciabilità per riconoscere il prodotto l'autenticità del prodotto e quindi ecco si può essere applicata in diverse fasi ecco della 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 filiera produttiva dando diciamo ecco dei risultati importanti interessanti e abbiamo effettuato noi già delle delle prove preliminari ecco su frutti freschi non non essiccati e da queste prove diciamo abbiamo avuto dei risultati interessanti perché abbiamo ottenuto degli spettri comunque ecco ben in cui i picchi erano ben evidenti il nel futuro vorremmo estendere le analisi anche su pomodori comunque di altre zone della sicilia in modo da costruire un database per l'identificazione rapida del dei frutti in campo la qualità poi del del chimico fisica di frutti è stata anche determinata mediante la tecnica di luminescenza questa metodologia è correlata all'emissione di fotoni di fotoni ottici da parte di un campione opportunamente irradiato con luce visibile l'emissione di fotoni ottici decresce nel tempo dando origine delle curve di decadimento questo è un fenomeno che si che è correlato che si verifica in seguito all'eccitazione collettiva diciamo degli elettroni presenti nelle strutture macromolecolari della sostanza organica diciamo che i fattori esterni in qualche modo possono modificare la struttura di questi sistemi viventi e questo causa dei cambiamenti nel numero di fotoni rilasciati e di conseguenza causa dei cambiamenti nella pendenza delle curve di decadimento per questo motivo è possibile dire che la tecnica diciamo viene utilizzata anche per valutare lo stato funzionale del sistema biologico nel settore agroalimentale la tecnica DL è stata utilizzata per ad esempio valutare il potere germinativo dei semi per controllare la qualità e il grado di maturazione dei frutti per controllare la qualità al variare delle condizioni ambientali proprio in virtù del fatto che queste curve di decadimento riflettono in qualche modo i cambiamenti in esame gli obiettivi quindi della TEC cioè gli obiettivi del lavoro sono stati quelli di correlare praticamente i parametri DL quindi ottenuti da queste curve di decadimento con i parametri chimico-fisici determinati sul pomodoro analizzato attraverso delle tecniche tradizionali e poi valutare i cambiamenti di questi parametri DL rispetto all'origine geografica dei pomodori infatti abbiamo come fatto un po' per l'XRF raccolto dei campioni da zone differenti e analizzato proprio le misure di decadimento proprio per vedere se la DL potesse in qualche modo essere applicata per scopi identificativi un po' come fatto per il lavoro XRF quindi abbiamo effettuato delle misure colorimetiche delle misure chimiche impiegando delle tecniche di analisi chimiche di tipo tradizionali abbiamo poi effettuato le misure di luminescenza ritardata analizzando le curve di decadimento e poi i parametri chimico-fisici precedentemente determinati li abbiamo correlati con i parametri DL quindi come dicevo prima abbiamo preso dei campioni da Pachino quindi GP e questi sono stati confrontati con campioni raccolti nel territorio di Ragusa a Marina di Ragusa e Santa Croce Camarina abbiamo analizzato campioni rossi quindi nello stato di piena maturazione su questi campioni abbiamo effettuato delle misure colorimetriche volte proprio a determinare il colore della buccia quindi anche legate al contenuto di pigmenti responsabili proprio della colorazione del frutto attraverso un colorimetro portatile abbiamo poi determinato il pH il contenuto di solidi solubili che esprime in pratica la quantità di zuccheri presenti nelle bacche di pomodoro e il contenuto di acidi organici mediante le semplici titolazioni acido base utilizzando della soda i campioni si mostravano simili per colore, per pH per il contenuto di acidi organici mentre differivano per il contenuto di zuccheri semplici queste differenze non erano comunque legate alla zona di produzione erano diciamo delle differenze casuali successivamente abbiamo effettuato delle misure diciamo di luminescenza ritardata con questo apparecchiatura appunto che è mostro in figura le misure sono state effettuate presso il centro Meluna Research a Wagening durante il mio soggiorno in Olanda il diciamo in seguito all'emissione cioè dopo che il campione è stato appunto irradiato con della luce ecco il campione emetteva quindi un certo numero di fotoni ottici dando lì e questo ha dato origine appunto a queste curve di decadimento questi dati sono sperimentali sono stati poi fittati mediante la legge di Becquerel che descrivo qua sotto e che è comunque utilizzata diciamo in letteratura proprio per descrivere il decadimento dei sistemi complessi e da questa legge abbiamo ottenuto il tre parametri importanti M che rappresenta la pendenza delle curve A con 0 che rappresenta invece l'intercetta e T con 0 i parametri di L sono stati messi a confronto tra loro diciamo la pendenza era il parametro che variava maggiormente tra i campioni analizzati però è stato osservato che anche in questo caso il parametro M non variava al variare delle zone di coltivazione infatti campioni che praticamente appartenevano alla stessa zona avevano praticamente valori di M diversi mentre i campioni che appartenevano a zone diverse avevano valori di M simili questo significa che praticamente l'analisi non è riuscita a discriminare i campioni in base alla loro origine e quindi diciamo la tecnica di L non è idonea per autenticare i prodotti a differenza di quanto avevamo osservato per l'XRF nella fase finale del lavoro i parametri di L sono stati poi messi in relazione in correlazione con i parametri chimici determinati mediante analisi tradizionali quindi è stato messo a confronto M con il contenuto di solidi solubili con gli acidi presenti e con il rapporto zuccheri acidi e in questo caso tramite il coefficiente di Pearson siamo riusciti a vedere delle correlazioni tra il parametro M e il contenuto di zuccheri presenti quindi questo dimostra che effettivamente la tecnica riesce in qualche modo a valutare la qualità interna dei frutti e in qualche modo è possibile quindi utilizzarla come indicatore della qualità interna dei frutti in quanto i frutti che avevano un contenuto maggiore di zucchero avevano delle curve con una pendenza maggiore quindi c'era una relazione positiva tra questi due fattori concludendo quindi se da un lato la tecnica non è riuscita a discriminare i prodotti sulla base della loro origine geografica e quindi non può essere utilizzata a supporto della tracciabilità dall'altro comunque può essere utilizzata con successo in combinazione con tecniche classiche per rilevare in maniera rapida in maniera non distruttiva la qualità interna dei frutti e come prospettive future vorremmo anche in questo caso estendere le misure su campioni di pomodoro provenienti da altre zone della Sicilia al momento stiamo analizzando le misure di Ello ottenute da frutti raccolti con diverso stadio di maturazione e appunto stiamo vedendo dei risultati importanti in quanto campioni che hanno colori diversi emettono praticamente segnali diversi quindi diciamo si ottengono curve di decadimento proprio con pendenze diverse tra loro infine ecco l'ultimo grosso capitolo dell'attività di ricerca appunto da me condotte è stato quello di valutare la composizione microbiologica questo perché i microrganismi in qualche modo sia benefici che patogeni generano delle variazioni nella composizione chimica dei frutti rendendo il prodotto diciamo il sistema complesso più instabile e più complesso di quello che è come si può dire quindi abbiamo analizzato praticamente questi ecco abbiamo analizzato gli stessi campioni su cui avevamo fatto le misure XRF proprio per valutare la popolazione microbica IV presente abbiamo quindi valutato le popolazioni microbiche carposferiche proprio per vedere effettivamente le interazioni tra le popolazioni microbiche e l'area di coltivazione un po' come fatto per lo studio XRF sui profili elementali quindi abbiamo voluto vedere l'influenza che ha il territorio e le pratiche agronomiche sulla composizione microbiologica dei prodotti successivamente abbiamo caratterizzato alcuni microrganismi appunto isolati benefici per valutare la loro attività antimicrobica in vitro nei confronti di importanti patogeni del post-raccolto o comunque del campo questo anche per magari commettere in luce eventuali microrganismi da poter essere utilizzati poi come agenti di biocontrollo in lotta biologica per ridurre il contenuto di fitofarmaci da impiegare in campo e poi l'efficacia di questi microrganismi è stata essaggiata è stata riprodotta in vivo inoculando praticamente sul frutto gli antagonisti valutando la loro efficacia nei confronti di botrytis cinere alternale alternata proprio per ridurre la malattia di questi patogeni quindi abbiamo gli step ecco qui riporto gli step della ricerca che abbiamo eseguito allora per prima cosa abbiamo studiato le popolazioni microbiche abbiamo isolato gli isolati batterici più rappresentativi abbiamo effettuato delle prove in vitro e poi gli esaggi sono stati confermati in vivo come è possibile vedere dagli istogrammi allora le popolazioni microbiche erano più abbondanti sulla superficie dei frutti quindi gli epifiti sono quelli contrassegnati dal colore blu erano più elevati rispetto agli endofiti cioè che sono i microrganismi che vivono all'interno dei frutti e tra i microrganismi batteri erano quelli più presenti la cosa interessante è che la quantità di microrganismi il tipo di microrganismi differiva in base alla zona geografica rispecchiando il profilo elementale differente che avevamo rinvenuto con l'XRF in modo particolare che i funghi erano più presenti nel territorio di Ispica mentre a Pachin erano più presenti i batteri successivamente abbiamo isolato oltre 200 batteri e abbiamo testato la loro attività antimicrobica cioè la loro capacità di produrre delle molecole che in qualche modo ostacolano lo sviluppo dei patogeni abbiamo testato quindi questa loro capacità in vitro e abbiamo visto che circa oltre diciamo il 30% di questi batteri era efficace simultaneamente nei confronti di tutti i patogeni saggiati quindi questo è un grande risultato in quanto getta le basi proprio per la realizzazione di bioformulati da applicare in campo e in posta raccolta proprio per controllare le malattie del pomodoro successivamente abbiamo voluto vedere chi fossero questi batteri antagonisti e quindi abbiamo proceduto alla loro identificazione molecolare abbiamo considerato dei ceppi rappresentativi 67 batteri che sono stati selezionati tra le classi degli antagonisti migliori e abbiamo effettuato il sequenziamento del gene 16S che codifica per l'RNA ribosomiale le sequenze nucleotidiche di questi ceppi non noti sono stati poi confrontati con le sequenze nucleotidiche di ceppi noti pubblicate diciamo nella banca dati la GenBank nella piattaforma e nel CBI dal confronto di queste specie abbiamo identificato diverse specie microbiche che appartenevano a queste tre grandi famiglie pseudomonadacee bacillacee ed entrobacteriacee la frequenza di queste specie microbiche era differente nelle varie aziende quindi non solo la quantità cambiava ma anche praticamente le specie microbiche cambiavano tra le aziende monitorate quindi dimostrazione che il territorio influisce anche sul tipo di antagonisti e sulle specie microbiche ad esempio le pseudomonadacee quindi contrassegnate in viola erano più presenti nella farm 1 quindi nella zona di Pachino mentre le bacillacee erano più presenti nella zona di Ispica nella farm nell'azienda 4 questi dati sono stati quindi rilevati tramite PCA sono stati anche confermati mediante analisi ANOVA infine come dicevo l'attività antagonistica di ceppi rappresentativi che abbiamo diciamo l'attività antagonistica che è emersa in vitro è stata confermata in saggi in vivo quindi abbiamo in questo caso inoculato dei frutti di pomodoro con l'antagonista e con il patogeno per poi valutare la riduzione della malattia e come è possibile notare negli histogrammi in basso nel caso del controllo che rappresenta i frutti diciamo inoculati soltanto con il patogeno la malattia era del 100% in tutte le altre tesi quindi inoculate con l'antagonista e con il patogeno l'incidenza della malattia era sempre inferiore al 40% quindi concludendo diciamo le tecniche fisiche e microbiologiche utilizzate in questo studio hanno supportato in maniera complementare l'attività di ricerca in quanto ciascuno di loro ha in qualche modo permesso di caratterizzare il sistema complesso sotto studio hanno dato cioè delle informazioni in qualche modo diverse ma complementari per aggiungere per definire in maniera diciamo completa la qualità del prodotto quindi sotto vari punti di vista e in particolare la tecnica XRF ha permesso di conoscere la composizione elementale dei frutti di pomodoro mettendo in luce la presenza di specifici elementi in relazione proprio all'origine geografica dei prodotti mentre la luminescenza ritardata anche se non ha dato dei risultati diciamo i risultati sperati cioè legati proprio alla capacità di discriminare l'origine è comunque apparsa utile per valutare proprio i cambiamenti strutturali dei sistemi biologici al variare delle condizioni agronomiche e delle condizioni ambientali l'utilizzo quindi complementare delle due tecniche potrebbe in qualche modo diciamo aiutare gli operatori che lavorano proprio nel settore agroalimentale per comprendere in maniera rapida veloce e in situ proprio la qualità dei frutti e questo ovviamente è già un impatto notevole a livello economico perché queste due tecniche potrebbero essere utilizzate sulla scala in tanti step della catena alimentare senza quindi dover ricorrere alla distruzione del frutto infine le analisi microbiologiche hanno permesso di approfondire le conoscenze riguardanti le popolazioni microbiche suggerendo l'esistenza di forti correlazioni tra la composizione chimica dei frutti e la sua popolazione e la popolazione microbica appunto vivente su questi allo stato attuale vorremmo noi continuare in questo senso nello studio delle correlazioni che esistono tra la composizione chimica del prodotto e le caratteristiche del suolo e tra la composizione chimica del prodotto del pomodoro con il profilo microbiologico in modo da avere un quadro ancora più generale e in modo da definire ancora meglio il sistema complesso analizzato qui riporto la lista delle pubblicazioni pubblicate in questi anni insomma grazie per l'attenzione